CAV Concessioni Autostradali Venete è una concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gestisce l'autostrada A4 nel tratto che va da Padova fino alla stazione di Quarto D'Altino. Io sono Marco Scattolin, sono direttore dei lavori dell'intervento di manutenzione periodica degli asfalti. Abbiamo scelto la granella essendo questo materiale con una più elevata compatibilità ambientale. L'utilizzo infatti del basalto piuttosto che di altri materiali aggregati naturali costituisce un utilizzo e un consumo di risorse che sono sicuramente esauribili. Abbiamo scelto di utilizzare la granella, i nostri tappeti, perché anche per CAV la sicurezza è un valore molto importante. La granella ci ha consentito di ottenere dei valori di aderenza più alti rispetto a quelli ottenibili con dei tappeti realizzati con aggregato naturale. La scelta di utilizzare la granella quale elemento per i conglomerati bituminosi che vengono stesi lungo tutta la nostra autostrada è l'esatta sintesi di una scelta di ridurre il più possibile gli interventi di manutenzione della pavimentazione a favore di una maggiore sicurezza del traffico in transito ed assicurare contestualmente una resa della pavimentazione e un servizio e un comfort di guida maggiore. Grazie. 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 Grazie.